La chimica in campo comporta degli accorgimenti specifici nell'utilizzo di alcuni erbicidi come il nominè. Ne parliamo con Nino Chioca, Shinamotta, San Pietro Mosezzo e ci chiediamo e le chiediamo con quali prodotti lei non utilizza il nominè? Beh, io direi che il nominè si può usare con tutti i prodotti. Proprio dovendo cercare il pelo dell'uovo assolutamente direi no col propanile perché un antagonista ne limita l'assorbimento, più che l'assorbimento la traslocazione, proprio per un'azione meccanica tipica del propanile.